Musica Musica Bella raga, quello che avete appena visto è stato uno dei vinili che mi ha regalato la mia fidanzata che saluto, ciao Silvia Come molti non ho potuto festeggiare insieme ai miei amici questo compleanno a causa della quarantena E già che siamo in tema quarantena volevo spendere due cose su uno degli argomenti che ho visto un po' in questo lockdown Sapete come dicono dove molti vedono un problema altri vedono opportunità E appunto questo si applica all'isolamento sociale che stiamo vivendo Questa quarantena ha regalato una buona parte di persone molto più tempo per esplorare attività, nuovi hobby Cose che hanno sempre voluto fare ma che prima non avevano tanto tempo per farlo Ad esempio io sto recuperando tantissimi film, alcune gravi lacune che se ve le dico mi linciate Però niente poi sei lì, apri Instagram e inizio a scrollare un po' e inizio a vedere chi sta facendo torte, chi sta suonando, chi si sta allenando, chi dipinge e così via Inizio a pensare tutto questo tempo che stai sprecando perché sono le 11 ma sei ancora a letto magari hai lezioni pomeriggio o sei in smart work e puoi più o meno regolarti da solo E sei ancora lì a letto a scrollare a vedere tutta questa gente che sta... è già a mille nella loro giornata Comincio a pensare che a questo punto avresti già dovuto aver imparato il russo, un mandarino, a suonare il piano Fun fact, questo dizionario di francese l'ho preso solo in quinta superiore perché c'era la simulazione di seconda prova Io volevo un dizionario mio dove potevo scriverci i bigliettini dentro Per certi versi tutto questo sembra un'altra challenge in cui chi fa più cose vince insomma Però alla fine ognuno di noi sta vivendo questa quarantena in modo diverso raga Non c'è assolutamente alcun problema se stiamo mangiando un po' di più e ci stiamo muovendo di meno D'altronde non possiamo neanche uscire E non c'è assolutamente alcun problema se qualcuno si sta regolando facendo attività tutti i giorni per tenersi un po' in forma Ad esempio me fare l'esercizio in questi periodi rappresenta una valvola di sfogo Come dice la mia ragazza non fa niente se non hai ancora imparato a stuare il clavincembalo Se non hai letto Platone, se non stai diventando uno chef stellato E ovvio non c'è neanche nessun problema se stai approfittando 100% tutto questo tempo a disposizione per imparare nuove cose Anche io all'inizio sono partita a mille botte di robe da fare ma poi pian piano mi sono andata una calmata È un po' una roller course di emozioni questa quarantena Un giorno ti senti giù l'altro un po' più su Però la sfida più grande rimane quella di stare mentalmente bene Poi non dimentichiamoci che in tutto questo c'è chi ha continuato a lavorare come un sacco di gente che conosco Che stanno facendo il loro lavoro C'è anche io sto lavorando da casa come sempre, continuo a fare i miei video eccetera Poi anche chi sta studiando mi sembra abbastanza un pacco seguire tutte queste lezioni davanti al PC Soprattutto per chi non è abituato a stare attaccato allo schermo tutto il giorno E poi deve ancora studiare o fare 3000 compiti che stanno assegnando veramente un pacco Però niente non sono un psicologo, non sono qui per risolvere nessun problema Ma spero di potervi aiutare con queste parole Volevo passarvi questo messaggio, non abbiate paura di parlare con i vostri cari amici o parenti Di quello che state sentendo, delle vostre paure, non lo so Non siete assolutamente da soli in tutto questo Detto tutto questo, se sei nuovo al canale apprezzate un sacco se ti iscrivessi Ma anche se no, vedi un po' tu, fai come hai voglia Ci vediamo alla prossima Ciao